E l'Oscar va a Heath Ledger. E l'Oscar va a Heath Ledger. E' un'azione magistrale nel Joker, nella trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan. Purtroppo un anno e un mese dopo la sua morte, furono proprio i loro genitori a prendere quel premio tanto desiderato e meritato dell'attore. Ebbene oggi sono qua per parlarvi un po' di ciò che hanno detto i loro genitori alla premiazione. Ciao sono Captain Nerd e bentornati su Chuck e Azione. E proprio queste sono quelle serate che rimarranno indimenticabili e indelebili nel cuore di tutti. Il nostro povero Heath Ledger, spentosi all'età di 28 anni, il 22 gennaio del 2008, ha lasciato in tutti noi un vuoto grandissimo. L'attore purtroppo è venuto a mancare per una overdose di farmaci e a trovare il corpo senza vita. Nel suo appartamento di New York fu una collaboratrice domestica e una fisioterapista con cui aveva concordato un appuntamento per quel pomeriggio. L'ipotesi del suicidio fu smentita dall'autopsia. A uccidere il talentuoso interprete del Joker fu un mix letale di medicine, per lo più sonniferi ansolitici che Ledger assumeva per combattere l'insonnia. Ed oltre alle sue interpretazioni nel Cavaliere Oscuro, era conosciuto anche per altre pellicole, come Dieci cose che odio di te, I segreti di Brookman Mountain, e per lo più era noto per la maniacale preparazione e documentazione sui personaggi a cui si accingeva a interpretare. Riguardo alle sue premiazioni, è riuscita nello stesso anno a vincere un Oscar, un Golden Globe, un BAFTA e un Saga Award. E dopo questa breve introduzione sul nostro It Ledger, ora andiamo a vedere cosa hanno detto effettivamente i suoi genitori quella notte degli Oscars. Le parole del padre furono, prima di tutto, devo dire che è davvero umiliante il solo fatto di essere tra persone così meravigliose, e un settore così meraviglioso. In primo luogo, vorrei ringraziare l'Accademia per aver riconosciuto lo straordinario lavoro di nostra Kill. Warner Bros. e Christopher Nolan in particolare, per aver concesso a It la licenza creativa per sviluppare ed esplorare questo folle personaggio di Joker. A Steve Alexander, mentore di It, amico speciale e agente per dieci anni. Ti amiamo, Steve. Questo premio stasera avrebbe umilmente convalidato la silenziosa determinazione di It. Ad essere veramente accettato da tutti voi qui, cioè colleghi all'interno di un settore che amava così tanto. Grazie. Dopo di lui iniziò a parlare anche la madre, dicendo It era un'anima così compassionevole e generosa, che ha aggiunto così tanta eccitazione e ispirazione alle nostre vite. Siamo stati davvero sopraffatti dall'onore e dal rispetto che gli sono stati conferiti con questo premio. Stasera scegliamo di festeggiare ed essere amici per ciò che ha ottenuto. Infine si aggiunse anche sua sorella dicendo It, sapevamo entrambi che ciò che avevi creato in Joker era straordinariamente speciale e avevamo persino parlato del fatto di essere qui proprio quel giorno. Vorremmo davvero che lo fossi, ma accettiamo con orgoglio questo premio a nome della tua bellissima Matilda. Grazie. E queste sono state le parole della sua famiglia, diciamo molto toccanti, molto compassionevoli e degne comunque di un figlio barra fratello di cui andare molto fieri. Quindi io spero che voi abbiate apprezzato questo video, spero che vi siano piaciute tutte le parole che hanno detto sua sorella e suoi genitori e nel caso commentateli qui sotto così almeno potremo andare avanti a parlarne. Io in ogni caso vi ringrazio per aver seguito questo video, vi chiedo di seguirci su Instagram e Facebook e di iscrivervi al nostro canale su YouTube e cliccando anche sulla campanella che è sempre una cosa importantissima. E da Captain Nerd qui oggi è tutto e noi ci rivediamo presto a un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.